Puntata dell'Occhio di Abbate di venerdì 26 giugno su Viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre, una puntata accesissima. Consiglio a chi ha problemi di cuore e di udito di non sentirla. Vi presento subito gli ospiti, due rappresentanti politici, Mimmo Cotugno, consigliere comunale di Taranto del PD, il dottor Michele Di Fonzo, commissario provinciale di Forza Italia e poi ancora il Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, Massimo Battista e una new entry, un autore, uno scrittore, un poeta, ma un operaio dell'Ilva che ci denuncia quanto accade in Ilva da operaio, proprio dall'interno, mi riferisco a Vincenzo De Marco. Tanti gli argomenti, tanta la carne a cuocere, l'Ilva, il post Ilva, la situazione occupazionale di Taranto, la responsabilità della classe politica, le bonifiche, il ruolo del Comune, il ruolo dei partiti all'interno del sistema Taranto. E viva l'occhio di Abbate e viva la democrazia.